Velocemente le premiazioni, per cui per cortesia avvicinarsi qua allo staff che smontiamo un po' il percorso per dare spazio alle premiazioni, vediamo anche questo binomio, eccoci siamo bene fino a questo momento del percorso, ecco l'entrata in slalom, guardate questo cane con la faccia metà bianca e metà nera prima del jumping ieri, nell'individuale, questo binomio, si sta confermando un ottimo binomio, grandissimo il giro di questa ragazzina spagnola, brava, un applauso anche per lei, è un tempo di 38.07 per corso netto, è la seconda